Anzi, e quindi sono i primi che loro praticano la pena di morti. Cioè voi state denunciando pubblicamente il Papa in questo momento? No, mica denunciando, chi non vincerebbe la stiamo stando. Ah, è simbara. Eh, la stiamo stando, però il problema è che come il Presidente della Repubblica, tutti gli che tenono i soldi, si fanno accompagnati dalle guardie dei corpi che sono armati. Ora, se uno fa un'attentata nei loro riguardi, come reagiscono? Uccidono quella persona che... E allora? Equivale a una pena di morte. Una pena di morte che cos'è? L'uccisione di una persona. Quindi ci sta la pena di morte.